Musica Questa sera parliamo di nuove regole per il rilascio e il rinnovo dei permessi di accesso alla ZTL. Entreranno in vigore da lunedì per mettere finalmente ordine ad una materia complessa e che oltretutto dopo l'introduzione dei varchi telematici aveva fatto acqua da tutte le parti. Si tratta di un provvedimento atteso che detta regole chiare per il futuro e forse potrebbe anche fornire ai giudici di pace una via di uscita alle decine di ricorsi piovuti sulle loro scrivanie da parte di cittadini infuriati, giudici di pace i quali per mancanza di indicazioni precise hanno fornito pareri diversi riconoscendo la buona fede dei cittadini in qualche caso confermando le sanzioni anche di centinaia o migliaia di euro in altri. Proprio in funzione della buona fede abbiamo cercato di mettere in atto quei correttivi che si spera in futuro aiutino i cittadini a non incorrere in sanzioni che sono anche dalla stesura da quello che abbiamo visto nelle pratiche dettate esclusivamente da una dimenticanza in buona fede per cui un'amministrazione deve mettere sempre in atto quei correttivi che aiutano il cittadino a non incorrere in dimenticanze amministrative che poi si traducano in sanzioni che portano anche a mettere in discussione l'equilibrio economico di una famiglia come è avvenuto con i varchi elettronici, con il passaggio dal controllo dei vigili a quello dell'occhio elettronico che ha portato a cambiare un'abitudine che una dimenticanza in questo caso produce automaticamente una sanzione. Come dire, la pubblica amministrazione non deve essere sempre l'orco cattivo che si accanisce nei confronti della gente. Un segnale di buona volontà e anche di buon senso da parte della Giunta Tambellini che di fatto si è trovata a dover gestire il complicatissimo passaggio dal vecchio al nuovo sistema. Vediamo nella pratica cosa cambia. I permessi oggetto del provvedimento sono il secondo per famiglia residente il primo gratuito si proroga automaticamente e le categorie N residenti e non e D per motivi di lavoro. Tutti quelli in scadenza dal 19 novembre saranno prorogati al 31 dicembre. I cittadini che dal 1 gennaio 2013 sono ancora in possesso dei requisiti richiesti hanno dunque tempo sino alla fine dell'anno per chiedere il rinnovo. Questo per evitare che si ripetano cose già viste e cioè che anche nel caso si dimenticasse di provvedere immediatamente al rinnovo non si corre il rischio di incappare in decine di verbali. Per i nuovi permessi, quelli richiesti dopo il 19 novembre la scadenza sarà prorogata in ogni caso al 31 dicembre 2013. Questo per equiparare tutte le scadenze all'anno solare e semplificare così il procedimento di rinnovo. In più, per facilitare i cittadini più distratti il Comune ha istituito il servizio cortesia che avviserà con un sms o una mail la prossima scadenza del permesso. L'altra grande novità è l'introduzione di un mese di comporto per effettuare il rinnovo che dal 2013 potrà avvenire entro il 31 gennaio. Ci sembra un provvedimento di buonsenso, ha aggiunto Sicchi. In fondo, per il pagamento di qualunque tassa si concede ai cittadini un tempo ragionevole per provvedere. Non è un caso che a presentare le novità ci fosse in conferenza stampa anche l'assessore al bilancio Antonio Sicchi. La delibera adottata dalla Giunta non è indolore per le casse del Comune. Il quantum andrà ancora quantificato in termini di mancati introiti, di multe e di costi aggiuntivi. Tutto questo dovrà essere inserito nel prossimo assestamento di bilancio. Nella conferenza a Palazzo Orsetti era presente anche l'assessora Francesca Pierotti che ha fatto il punto sul tavolo di lavoro congiunto al quale partecipano l'ufficio mobilità, quello delle attività produttive, metro e polizia municipale. Dopo aver ascoltato le categorie, ha precisato la Pierotti, adesso cercheremo di trovare una sintesi per migliorare e razionalizzare l'accesso e la sosta nel centro storico. Il lavoro è ancora in fase di definizione, ma di sicuro non si torna indietro. E allora l'obiettivo è velocizzare il più possibile l'iter per il progetto della ex Manifattura Tabacchi che l'amministrazione comunale intende destinare a parcheggio a servizio del centro storico. Un progetto concreto, già entro la fine dell'anno, riguarda l'introduzione di cartelli luminosi prima dei varchi telematici, dove in più lingue si avviseranno gli automobilisti che stanno per entrare in una zona a traffico limitato. Prosegue anche il monitoraggio in città, cacciano i nuovi stalli per residenti. Ne sono già stati ricavati una quindicina, ma se ne stanno individuando altri. Attualmente sono poco più di 1.500 gli stalli gialli, a fronte di 4.364 permessi di categoria A, oltre 2.000 di categoria N e 1.700 di categoria D.